Io sono sempre anche... è magico uno spettacolo così, no? Cioè, non ho musica, non ho testo. Cioè, una povera che vuole diventare eroe e per un'ora è un quarto? La cosa funziona, no? La gente segue, perciò questo ha in sé un miracolo. Io ho visto nelle scuole di teatro che ho un talento comico, ma non c'erano, per una giovane attrice non c'è niente che fa veramente ridere. Cioè, tu non hai un ruolo, cioè, nel teatro classico, nel teatro moderno, non hai stoffa, non hai materiale. A mei clown vorrei arrivare a dover fare sempre di meno, cioè, sempre meno azione e più essenza. Cioè, di arrivare a, diciamo, trovo i vecchi clown hanno un altro carisma, no? Gardi Hutter, Suiza 1953. Pionera della payasa teatral in il mondo, galardonata con varios premios internazionali, lleva desarrollando sus heroïnas in shows desde 1981. Entro nel palco e... Io ancora, come dire, mi muovo ancora tanto, devo fare... Osea, spero anche per il prossimo spettacolo di poter entrare ancora di più proprio in questa magia clownesca, no? Oggi, quello che trovo interessante è che le storie delle donne non sono ancora raccontate, come dire? Quando un uomo oggi diventa clown, cioè, c'è il Cepri, c'è il Kittin, c'è questo, c'è... Cioè, c'è un museo di grandi personaggi, da noi non c'è nessuno, perciò abbiamo vista libera, cioè, c'è tutto ancora da inventare, e questa è una situazione artistica più interessante. e questa è una situazione artistica più interessante. E questa è una situazione artistica più interessante. che è una situazione artistica più interessante.